Buongiorno, benvenuti a 5 minuti per brillare, sono di nuovo qui, mi scappa un po' da ridere perché mi sono appena rivista nei 5 minuti di presentazione e mi sono fatta ridere da sola ups, il gatto, però ecco insomma, questa ne parleremo un'altra volta, uscire fuori dalla zona di comfort è una cosa senz'altro interessante della quale parlare, per adesso questa volta parleremo in 5 minuti brevissimi, devo sbrigarmi, del potere delle parole, dunque oggi parliamo di questo perché realmente le parole hanno un'influenza enorme, io mi sono resa conto lavorando con clienti giorno per giorno che è uno dei problemi probabilmente più, uno delle ragioni probabilmente più importanti per le quali le persone tendono a vivere una realtà diversa da quella che desiderano e sognano, a volte pensiamo che l'essere buoni o avere un buon cuore o fare tante cose siano la ragione per la quale la nostra vita deve riflettere quello che facciamo, realmente non ci rendiamo conto che piccole cose dette a noi stessi o agli altri giorno per giorno che diventano oramai un'abitudine hanno un'influenza enorme, un impatto tremendo su quello che ci circonda e come esempio vorrei prendere uno dei miei bimbi, il quarto, Riccardo che ha sei anni adesso ed è un bimbo che alcuni di voi chiamano terremoto, chi lo conosce è un bimbo pieno di vita, è straordinario, eccezionale, senz'altro abbastanza iperattivo in tutti i sensi, con una voglia tremenda di attirare l'attenzione, di piacere a tutti e ovviamente bisogna incanalare le sue energie nell'essere un leader positivo e non è facile, lo garantisco. Ha preso un'abitudine ovviamente in mezzo a tutte le abitudini positive che prendono un'abitudine negativa che è quella di chiamarsi tonto a lui o a tutte le persone che lo circondano se lo fanno arrabbiare, è una cosa che qui in Spagna si usa tantissimo e apparentemente è una parola innocua, completamente innocua la parola tonto, però quello che stiamo dicendo al nostro cervello è che siamo tonti e io cercavo da mesi ormai di fargli capire che questa parola ha un'importanza, sia quando la dice agli altri che a lui stesso, sono anni che lo ripeto ovviamente, costantemente, però finché non si trovano le parole giuste i bimbi non danno grande importanza a quello che si dice, gli adulti anche, ma soprattutto i bambini, bisogna riuscire a fargli capire le cose in una maniera talmente semplice che il loro cervellino lo recepisce bene. L'altro giorno eravamo in macchina e per qualche ragione che non ricordo neppure quale fosse, si è chiamato tonto a lui stesso, allora mi sono fermata, ho parcheggiato la macchina, mi sono girata a guardarlo e gli ho detto Riccardo, tu vuoi essere un bimbo speciale, sei un bimbo eccezionale, no? E lui mi dice sì sì sì, se vuoi essere il meglio di te stesso, tu sempre, vero? Sì, allora mi permetterai di dirti questo, se tu ripeti così tante volte al tuo cervellino che sei tonto, finisce che poi ci crede e se ci crede i tuoi comportamenti, le cose che farai rifletteranno quella cosa lì, quindi devi stare attento a quello che ti dici, perché la nostra testa ha degli omini dentro che ci fanno da selfie, fanno esattamente quello che gli indichiamo di fare e se tu gli dici tante volte che è tonto, arriverà il momento che realmente ci crede e si comporterà come un tonto. E allora è rimasto un attimo di perplessa a pensare e poi di punto in bianco è diventato terrorizzato, assolutamente spaventatissimo dal fatto che lui avesse già ripetuto così tante volte questa parola che effettivamente il suo cervello oramai ci credesse. E allora dicevo, mamma, ma io adesso ho già detto così tante volte come faccio? E ho detto, amore mio, la cosa bella della vita è che effettivamente tutto si può recuperare, il passato non ha nulla a che vedere con il futuro, nonostante le cose più brutte e terribili che ci possano essere successo o che possiamo aver fatto, è il nostro presente che costruisce il futuro, non quello che è successo prima. Quindi ora che lo sai, ogni volta che lo dici, perché lo dirai ancora per un po' di volte, prendi coscienza, accorgitene e cambia la parola, sostituiscila con un'altra che ti sembra più bella. Pensa a una parola che ti piace, dice, ui, posso dire, mi sono distratto un attimo, ecco, è una buona parola, migliore che tonto. Benissimo, problema risolto. Diciamo che, ovviamente continuo a ripeterlo ancora ora, però ora ogni volta che lo dice se ne rende conto, si ferma e cambia la parola, arriverà il momento che diventerà automatico quello di cambiare una parola per un'altra. Una cosa così piccola ha un'influenza enorme nella vita di una persona. A volte le persone che ci stanno vicino, che più amiamo, non hanno la coscienza, non si rendono conto, oppure non hanno il coraggio tante volte di fermarci, farci prestare attenzione alle parole che utilizziamo costantemente, lamentele, parolacce, parole che semplicemente non sono costruttive per il nostro futuro o per riflettere quello che vogliamo che la nostra vita rifletta. Ogni volta che ci diciamo una parola dentro la nostra testa, che la pubblichiamo, che la scriviamo, che sentiamo un sentimento qualsiasi per quella parola, per quanto la diciamo senza prestare attenzione, quella parola viene di per sé stessa con una certa quantità di energia e quell'energia va fuori nel mondo e veramente ha le sue conseguenze. La nostra vita è un riflesso di ciò che pensiamo e ciò che pensiamo è dovuto anche alla ripetizione continua delle stesse parole. Perciò il mio suggerimento per questi 5 minuti per brillare è una cosa semplicissima. Provate a prestare attenzione a cosa dite a voi stessi, prima a bassa voce e poi ad alta voce, sia a voi stessi che agli altri, ma cominciate da voi. La responsabilità di quello che diciamo noi stessi è una cosa importantissima per poter dare il meglio poi al mondo fuori dal nostro interiore. Quindi vi ringrazio tantissimo per avermi ascoltato, buonissima giornata, continuate a brillare, ciao ciao!